La prima cosa che mi viene in mente commentando questa legge di bilancio è ma che davvero, ma che davvero, dopo dieci anni di proclami rivoluzionari Innia Trump, Bolsonaro, Johnson, Orban, Putin, richieste di uscita dall'euro, blocchi navali, lotte titaniche contro il mainstream, i poteri forti, avete prodotto una cosina così grigia e inutile. La legge di bilancio dovrebbe riflettere la vostra visione del Paese e nel vostro caso avrebbe dovuto esprimere i contenuti della gloriosa rivoluzione sovranista i pugni sul tavolo, il prima agli italiani, tutta quella roba lì e invece questa legge di bilancio può essere definita tutta al più, ma proprio volendo essere molto magnanimi un atto di presenza privo di qualsiasi visione Una legge piena di mance e mancette che storicamente, direi, si colloca tra il peggio di Berlusconi e il meglio di Salvini Grazie a tutti!